Re Caio, è proprio lei? Si, sono io! Stami a sentire, in seguito a quello che ti è accaduto ho scoperto una cosa molto importante riguardo alle sfere Oh, davvero? E che cosa? Se non recuperi le sfere del drago con la stella nera entro un anno dal giorno in cui è stato espresso il desiderio il pianeta usato per invocare il drago scomparirà per sempre Cosa? Ma è terribile Quindi se non riuscissimo a ritrovare le sfere entro un anno a partire da oggi la terra sarà Sarà cancellata per sempre